musica 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 vedi quanto ha ghiaccio faccio freddo ma basta che faccio freddo la ghiaccio non ho messo ghiaccio ma ancora il piccolo termine gira la ruta ma no fascinante artistico se vuoi si vuoi tu invece non ho fatto neppure ma quando avuto faccio inverno ma 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 bene questa è una terramora ma dove sono tutta chiusa eh tu l'hai detto dopo il 25, 26, 27 cosa vuoi di più sono pure la chiusa no stavano aperte stavano aperte ma è pure per loro in altra quindi sta prozzi per te pure sta prozzi ci so che sta freddo e dove sta freddo buona 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 siamo della sponzala prego noi siamo della sponzala siamo venuti qua a fare un'intervista siamo pronti? siamo pronti ci ha mangiato la faccenda della terra in dialetto vattene la curva il freddo deve mangiare si si che ci può se ci può se ci può mi dispiace non ti preoccupare non ti preoccupare mi rifaccio il capodanno non ti preoccupare non ti preoccupare questo è il tuo ufficio? certo dell'associazione e organizziamo quello che c'è da fare gli eventi che ci sono all'interno dell'associazione mi fa piacere il dialetto di rispondo bravo il dialetto che è il fiume? non ti preoccupare perchè ci sono molte persone più anziane che l'italiano non lo conoscono tanto bene anche perchè noi sempre parliamo meno il dialetto dell'italiano ma non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare non volevo parlare bravo va bene non ti preoccupare che ti preoccupare qual è il problema tuo? c'è il suo crescere aspettate che sono venute donne tra l'assunto il problema è che tu lo sai buonasera Andrea Mula certo beh è un'ottima esperienza per il paese di Mula per tutti i cittadini credo non solo per il sottoscritto per quanto mi riguarda però ma io scusi ma la c'è del genere certo ma quanta cazzo che cazzo questa è una buona ma te stanno accendo a mo è un'ottima esperienza la mia amica la mia amica ma non ho mai fatto niente cioè non abbiamo fatto niente un cappello è un cappello ma non abbiamo fatto niente da comprare invece non si sa non ma osserva cosa sarà la mia amica la mia amica è gratis questa di cucchiaccia e però ma a prendermi le cucchiacce questa fresca carta capito? è successo facciamo un peccato di cose partiamo dopo l'ariete aiutiamo le famiglie vediamo un pacco con le famiglie bisognose non arrivano alla fine di mai la crisi che stendono in tutta l'Italia poi siamo pure associazioni di azioni sociali arriva su quel territorio vedete i problemi per risolvere i problemi per andare all'ambiente per il tuo sport questo è un peccato di cose vengono con le famiglie più bisognose si che non puoi mangiare tu hai sempre pesce già fazzicchio a mangiare pesce ma la lente di carne no ma io non avevo già da cavallici che sei tu pesce allora questa è una domanda che devi spolverloce ti ha colore il tipo di tante non mi ricordo gregge gregge sicuro? non mi controlla non mi sono molto gregge non mi sono molto una mezz'ora credo che sono ancora gregge quello che si usa ti usa il mondo timba che risponde eh vabbè se vado con il team si va a cancellare eh che sei quanto non si va a cancellare se sei quanto non si va a cancellare no non si va a cancellare bravo un saluto alla Spunzale da Vincenzo Chiarelli e un saluto a Michele e Pezzo e a Nicola la Spunzale la Spunzale la prossima accappateva no no non è niente di queste cose